ciao a tutte e ben ritrovati nel mio canale oggi andrò ad eseguire con questo bellissimo shawl insieme a voi postato sopra nel link sopra cioè nella nel video sopra è molto soffice e facile da poter realizzare perché sono cinque giri in un punto è molto facile cinque giri in un altro punto poi ho fatto una bordura molto molto semplice ho consumato un gomitolo e più dell'altro gomitolo mi è rimasto questo i gomitori sono da 100 grammi e lana merino oro multicolor il numero di questa lana e 832 ho utilizzato iniziamo subito il lavoro io mi sono portato avanti e ho lavorato già 5 catenelle quindi filo sull'uncinetto vado sulla prima scusatemi sulla prima catenella da via il lavoro una maglia alta una seconda maglia alta una terza maglia alta 2 catenelle di separazione altre 3 maglie alte una catenella di separazione è un'altra maglia alta adesso giro il lavoro e lavoro 3 catenelle che corrispondono alla prima maglia alta è una manita una catenella di separazione dopodiché prendo il filo sull'uncinetto nel primo archetto vado a lavorare 3 maglia alta una catenella di separazione adesso mi ritrovo al centro del lavoro e vado a lavorare 3 maglie alte 2 catenelle di separazione e in sempre nello stesso archetto di nuovo 3 maglie alte come vedete si è formato già l'angolino dello scialle una catenella vado nell'ultimo vedete qua che si è formato questo archetto il lavoro 3 maglie una catenella di separazione è un'altra maglia alta sulla maglia alta sottostante cioè sulle catenelle sottostante ok finito il giro rigiro il lavoro e lavoro sempre 3 catenelle che corrispondono alla prima maglia alta più una catenella di separazione sempre nello nel primo archetto che mi ritrovo lavoro 3 maglie alte una catenella di separazione rientro nel prossimo archetto lavoro 3 maglie alte una catenella di separazione adesso mi ritrovo nell'angolino qua vedete quindi vado a lavorare 3 maglie alte due catenelle sempre nello stesso archetto vedete dove ho lavorato le prime 3 maglie alte lavoro altre 3 maglie alte una catenella di separazione adesso vedete vado sono andata dall'altra parte del lavoro primo archetto 3 maglie alte una catenella di separazione prossimo archetto altre 3 maglie alte una catenella di separazione è una maglia alta sulle catenelle sottostanti vedete io devo lavorare così man mano che si va avanti ogni giro aumentano gli archetti quindi noi in questi archetti dobbiamo lavorare sempre le tre maglie alte e si scusate non si vedeva bene e si prosegue così per cinque giri arrivata quindi alla fine del giro come vi ho detto prima bisogna lavorare questo motivo per cinque giri dopodiché io per fare questo scialle ho cambiato e motivo e adesso vi faccio vedere come giro il lavoro e lavoro naturalmente le prime tre catenelle che corrispondono alla maglia alta dopodiché filo sull'uncinetto mi vado ad inserire vedete che c'è il primo archetto che si fa ogni volta a lavorare due maglie alte filo sull'uncinetto adesso lavoro le maglie come mi si presentano quindi a ogni maglia alta sottostante vado a lavorare una maglia alta nell'arco dove c'è la catenella vado a lavorare una maglia alta quindi cosa bisogna fare nelle tre maglie altre sottostante lavora una maglia alta nell'archetto lavora una maglia alta e continuo così sino ad arrivare nell'angolo del dello scialle quindi questo che sto lavorando questo adesso è il sesto giro quindi poi arrivati nell'angolino cosa vado a fare vado a lavorare 2 catenelle 2 maglie alte vedete che c'è il buchino nell'angolo no quindi vado a lavorare 2 maglie alte 2 catenelle di separazione e 2 maglie alte proseguo sino alla fine del giro qua poi alla fine vi dico come dovete fare tutte maglie alte come vedete nell'angolo della catenella lavoro la maglia sono arrivati alla fine e come all'inizio nell'archetto vado a lavorare 2 maglie alte dopodiché una catenella vedete il lavoro una maglia alta nelle catenelle sottostanti giro il lavoro e inizio sempre con 3 catenelle che corrispondono la mia prima maglia alta una catenella di separazione inserisco l'uncinetto sempre nel primo archetto e lavoro una maglia alta poi una catenella di separazione nella seconda maglia alta che mi viene vedete qua nella seconda maglia alta vado a lavorare una maglia alta una catenella e adesso salto la prima la maglia alta che viene dopo la salto e vado a lavorare nella prossima una maglia alta quindi salto una catenella salto una maglia alta e vado nella prossima e lavoro una maglia alta come vedete ho cambiato perché il primo giro è tutto maglia alta il secondo giro è una maglia alta una catenella una maglia alta e si salta una maglia alta di sotto quindi una catenella salto una maglia alta nella prossima vado a lavorare una maglia alta una catenella salto una maglia alta nella prossima lavoro una maglia alta e così fino ad arrivare alla punta dello scialle sono arrivata vedete nell'ultima maglia alta della punta vedete ecco qua adesso cosa faccio lavoro una catenella una maglia alta sottostante poi due catenelle una maglia alta sempre nello stesso arco archetto vedete una catenella e nella prima maglia alta che adesso siamo dall'altra parte dello scialle lavoro lavoro una maglia alta e viene così vedete dopodiché concino con una catenella salto una maglia alta nella prossima lavoro una maglia alta una catenella salto una una catenella salto una una catenella salto 1 continuo così sino ad arrivare a dalla fine alla fine del giro sono arrivato alla fine e prosegue una catenella una maglia alta nel vedete nel qua dove l'archetto una catenella e poi l'ultima maglia alta come se avete ben capito bene a inizio giro e fine giro di qualsiasi di qualsiasi punto voi facciate si inizia sempre con tre catenelle che corrispondono alla prima maglia alta e una catenella di separazione e alla fine si finisce sempre con una catenella e una maglia alta si finisce sempre così dopodiché adesso gira il lavoro e rifaccio di nuovo tre catenelle una catenella di separazione nella prima archetto vado a lavorare due maglie alte una maglia alta sulla maglia alta sottostante una vedete che c'è la catenella qua dentro lavoro una maglia alta una maglia alta nella catena nella maglia alta sottostante e così via in ogni maglia alta si lavora una maglia alta nella l'archetto dove c'è la catenella si lavora una maglia alta e si rifà in poche parole lo stesso giro che noi abbiamo fatto prima di tutte maglie alte vedete si ripete in poche parole quindi io cosa devo fare adesso rifaccio tutto questo giro di maglie alte come ho fatto il sesto giro questo è il settimo l'ottavo lo farò come il sesto il nono lo farò come il settimo e così via per sette giri poi io vi scriverò nel link sopra come quanti giri in poche parole dovete fare adesso facciamo questo qua vedete sono arrivata alla fine di questo giro dove ho eseguito tutte maglie alte dopo di che adesso vado a riniziare il prossimo giro come il settimo adesso vi faccio vedere di nuovo allora iniziamo con tre catenelle che sostituiscono sempre la prima maglia alta e una catenella di separazione dopodiché nel primo archetto vado a lavorare due maglie alte cioè scusatemi non ho sbagliato una maglia alta avevo sbagliato una maglia alta dopodiché una catenella nella prima maglia alta vedete questa qua vado a lavorare un'altra maglia alta dopodiché una catenella di separazione salto la prossima maglia alta e lavoro quella dopo una catenella salto la maglia alta che viene dopo e vado alla prossima e lavoro una maglia alta e così via sino ad arrivare vedete sino ad arrivare alla punta qua delle dello scialle alla punta dello sciallo dove noi lavoriamo l'ultima maglia alta nell'ultima vedete questa qua che c'è poi rifacciamo una catenella una maglia alta nell'interno dell'archetto 2 catenelle un'altra maglia alta nell'interno dell'archetto una catenella e poi c'è già andiamo ad ad agganciare alla prima maglia alta sottostante dell'altra dell'altro lato vedete adesso vi faccio vedere un altro pochino qua ho già lavorato una catenella una maglia alta lavorate così per tutto il giro in poche parole di questi giri di maglie alte ne dobbiamo fare uno due sono tre quattro di maglie alte e tre di questo con lo spazio in tutto devono essere sette giri quindi cinque li facciamo di questo motivo e sette di quest'altro poi vi scriverò vi scriverò sopra quanti giri in tutto sono quelli che io ho fatto per lo scialle dopo essere arrivata alla fine dello scialla naturalmente dipende da quanto voi lo volete lungo e io poi vi scrivo quanto sono quanti giri ho fatto ho preferito fare una specie di merlettino in tutto qua dalla parte dalla parte dell'inizio fino all'angolo fino a qua e dalla parte di qua vedete da questo lato qua ho lavorato le maglie basse adesso vi faccio vedere come ho lavorato ho fatto questi giri allora mi alzo con una catenella vado nella prima maglia alta e lavoro una maglia bassa dopodiché lavoro 53 catenelle e salto quattro maglie alte nella quinta vado a lavorare una maglia bassa 3 catenelle salto 4 maglie alte sottostante nella quinta vado a lavorare una maglia bassa 3 catenelle salto 4 nella quinta vado a lavorare una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 4 e nella quinta vado a lavorare una maglia bassa 3 catenelle mi aggancio qua che sono arrivata nell'angolo e lavoro una maglia bassa poi qui rifaccio 3 catenelle mi inserisco di nuovo al centro dove c'è vedete questo archetto e lavora una maglia bassa dopodiché rifaccio 3 catenelle salto 5 maglie 4 maglie alte sottostante nella quinta mi vado a agganciare con una maglia bassa e così lavoro per tutto 5 il giro 2 e 3 1 2 3 4 5 1 2 e 3 1 2 3 4 5 1 2 e 3 sono all'ultimo vedete mi aggancio con una maglia bassa adesso mi alzo con 3 catenelle e lavoro in questo nel primo archetto vado a lavorare 3 maglie alte 3 catenelle rientro nello stesso archetto e lavoro una maglia bassa e si forma questa forma qua io già ho lavorato questo punto poi metterò il link sotto rientro nel prossimo archetto e lavoro 3 maglie alte 1 2 e 3 3 catenelle una maglia bassa sempre nello stesso archetto nel prossimo archetto e così via fino ad arrivare all'angolo dove io lavorerò adesso poi quando arrivo vi faccio vedere e si continua così per tutto sono arrivata nell'angolo vedete dello scialle e lavoro invece di 3 maglie alte lavoro 5 maglie alte 1 2 3 4 guardate che bello questo adesso sto cambiando colore e 5 vedete e si forma così e adesso continuo sino alla fine a lavorare 3 maglie alte 3 catenelle una maglia bassa sempre nello stesso archetto dove ho lavorato le 3 maglie alte come vedete sono arrivata alla fine vedete adesso cosa devo fare sono arrivata a questo punto qua quindi per non lasciarlo così perché a me non piace lasciarlo così quindi come mi ritrovo alla fine del giro continuo a lavorare con una ho lavorato una catenella mi inserisco qua la prima maglia e lavoro una maglia bassa dopodiché in ogni archetto vedete lavoro maglie basse ne lavoro due così in modo tale che viene ben rifinito non mi piace che si vedano queste cose così così con le maglie basse a me piace molto di più io ho finito spero di essere stata abbastanza chiara di e vi chiedo una cortesia e se vi è piaciuto il mio tutorial iscrivetevi al mio canale e cliccate nella casa sulla campanellina così ogni volta che uscirà un tutorial e vi arriverà una notifica che vi sarà che è uscito un mio tutorial dopo di che se vi piace mettete un like qui